Nelle puntate precedenti di C'era una volta Vi propongo un video un po' speciale Il riassunto di tre di queste storie Lucio e Kuduro si amavano Plurale Alessandra incontra Roberta Se innamora pazzamente Che Roberta non l'aveva mai amata Un meteorite Comunemente noto con il termine Will Si sarebbe presa anche il suo cuore E così facendo l'avrebbe liberata Angeli e demoni combattono da sempre Sheck è un diavolo etichettato come diverso Quiver è un angelo che sta arrivando Al limite del suo essere tale I due tornano sul campo di battaglia In prima linea Si scoprono essere innamorati l'uno dell'altro La regina dei devil Riuscì a dare l'incarico ad una guzzina Di uccidere Sheck L'happy ending vero di fatto infatti E ben trovati Come avrete intuito Questa è la seconda parte di una serie di video In cui andrò a leggervi delle storie create da me Queste storie servono perché quest'anno Alla Luca Manga School Dovrò illustrare per intero Una storia appunto creata da me E presentare poi le tavole all'editor giapponese Il quale mi darà senz'altro importanti consigli E chissà Magari con un po' di fortuna Potrebbe anche decidermi di prendermi sotto la sua ala Le storie da inventare Avrebbero dovuto essere tre Ma considerando il mio stile alternativo Ho avuto il timore che Magari poi Le storie che avrei inventato Non avrebbero rispettato appieno le consegne Degli insegnanti E così nel dubbio Ne ho inventate sei Tre un po' più A mio stile E tre un pochino Più normali Non lo so neanche se sia il termine giusto Né tantomeno se possa entrare Effettivamente nel vocabolario di quella che sono io Comunque La volta precedente ve ne ho lette tre Oggi andrò a leggervi le restanti tre Mi raccomando Fatemi sapere qual è la vostra preferita Tra tutte Considerando che No, questo non ve lo dico E niente allora Buon ascolto E spero Che vi piacciono Alla prossima gente Togliamoci subito dalle scatole La storia che odio di più È la mia ultima storia O meglio Quella che nella classifica Delle storie mia personale Ho messo in fondo alla classifica Per il semplice motivo Che come vi avrò già detto Molte molte volte Io e gli soggio Non andiamo d'accordo Ma in un atto di disperazione Ho voluto comunque scriverne uno È comunque alternativo No, non è vero Facciamoci venire il mal di pancia adesso E tacciamo per sempre Bene Iniziamo Storia 7 Il destino di un amore vero Baby Così si faceva chiamare Stava seduta Emoge su uno scoglio del lago Pensando che fosse colpa sua Che quel sogno Quell'illusione Se l'era creata da sola Dopo che lui Era entrato nella sua vita Già qui è un mal di pancia ragazzi Sappiatelo E così parte un flashback E la storia vera e propria Una ragazzina viene affiancata su un treno da un ragazzo Lei lo guarda Notando che era estremamente bello Ma che purtroppo una grande tristezza Sfigurava il suo volto Così Non poter fare a meno Di chiedergli cosa gli fosse capitato Il ragazzo comincia allora a raccontare Di come si fosse appena lasciato Col suo grande amore Col suo grande ragazzo La ragazzina Nello scoprire Quel piccolo particolare Non riesce a fare a meno Di essere felice Riuscendo Tra l'altro A trasmettere un poco Di quell'allegria anche al ragazzo Parlarono per tutto il viaggio Scoprendo infine Che erano diretti entrambi Alla stessa scuola di teatro Da quel momento I due cominciarono a stringere Un legame sempre più forte Lezione dopo lezione Finendo Per uscire insieme Lei si stava innamorando Pian piano di lui Ma non gli disse nulla Anche perché Non era mai stata fortunata In amore E quindi Con la scusa che lui Tanto era gay E non l'avrebbe comunque accettata Decide di non accettare A sua volta Quello che provava Prima che le facesse Troppo male Un giorno però Il ragazzo la baciò Lei allora Si illuse che qualcosa Avrebbe potuto esistere Se non che Un altro giorno In giro Per caso Nelle strade di Como Vide il suo Amico Con un altro Che scoprì Essere l'ex Anche a lui Diede un bacio Quella sera poi Il ragazzo Scrisse a Baby Già malinconica di suo Dicendole Che aveva risolto Con il suo ex Ciò fece avvilire Ancora di più La ragazzina Non gli rispose Aspettando pazientemente Che quella malinconia Passasse Vedendo che con i giorni Non passava Diventando invece Sempre più distruttiva Decise di rifugiarsi Al lago Luogo nel quale Aveva depositato Cuore ed anima Prima che potessero Essere nuovamente Attaccate Come in quel momento Il ragazzo Le aveva scritto Più volte Ma lei non aveva mai Trovato la forza Di rispondere Riuscendo solo A trattenere a stento Le lacrime E così Il flashback termina E torniamo Al presente E proprio quando Lei se ne stava Per andare dal lago Il ragazzo La raggiunse Lei ne è rimase sorpresa Parlarano E finalmente Lei scoprì la verità Lex non significava nulla Lui amava lei E lei Era stata una stupida A credere alle sue sensazioni Ai suoi ricordi distruttivi Era stata una stupida A credere Alle sue paure In lacrime I due si dichiarano Reciprocamente I propri sentimenti Fidanzandosi La scena finale Vede il look comics Qualcuno Chiede una foto Al ragazzo E la ragazzina Allora lo richiama E lui si gira In tutto Il suo splendore Da wings Accompagnato Da alcuni amici Conosciuti In quell'anno passato Che si erano Ben offerti Di aiutarlo Nel cosplay di gruppo La ragazzina Sorrise felice Pensando A quanto fosse Stata fortunata Ad incontrare Un raggio di sole Bello come lei Lui C'è che insomma Mamma mia Ho mal di pancia Tanto Sappiatelo Però è andata Passiamo Alla prossima storia Storia 4 Tu non capisci Ed è qui che entra in gioco Un personaggio Che è ragazzi Ascoltatemi Non so da dove mi sia uscito Chiedovenia Mondo dei destini Un mondo abitato Da varie creature Di vari colori Accumunati però In più delle volte Dagli stessi lineamenti Un mondo dove Non esiste pregiudizio Ognuno è libero Di vivere Per quello che è Indipendentemente dal cosa È Proprio come lui Lei Lewis Infuriato per non aver Ancora trovato Il modello perfetto Per il servizio venturo Allo stilista Di fama mondiale Viene riferito Che in una collina Della zona C'era un boscaiolo Che sarebbe stato Perfetto per il ruolo Il quale però Si rifiutava Categoricamente Di accettare la proposta Lewis Allora Decide Indignato Di andare A prenderlo Di persona Incamminandosi Con tacco dodici Superi i sentieri Scopre Che il boscaiolo Si chiama Alberto E che nutre Dei profondi pregiudizi Verso il mondo Fatto di apparenze Che è La moda Lewis però Non demorde E allora Alberto Gli propone un accordo Lavorare una settimana Sulle colline Come boscaiolo Se ci fosse riuscito Lui in cambio Avrebbe preso parte Al servizio Lewis Da prima Oltraggiato Decide di accettare Capabile Più che mai A portarsi a casa Con l'ammasso Cioccolatoso Di muscoli Fatica e sofferenza Accompagnano Lo stilista Nel corso Di quegli Ardui giorni Costretto a sbarazzarsi Di tutto ciò Che è in montagna E superfuo Scarpe col tacco Vestiti firmati E perfino Il trucco Alberto Non mancò Di deniderlo Fermamente convinto Che uno come lui Non ce l'avrebbe mai fatta Sopravvivere Una settimana In quelle condizioni Un giorno però Lo spiò All'annicchiarsi Vicino ad un albero Lo vide piangere Nonostante le lacrime Però Non aveva perso Il suo viso Corrucciato E la sua ostinazione Il boscaiolo Profondamente Stupito Di tutta quella Sostanza Sotto l'apparenza Cominciò a farsi Più gentile Fino a quando Non ha preso Un'importante verità La settimana Era ormai passata E nessuno Dei due Se n'era neanche Accorto Con rinomato orgoglio Lewis Portò con sé Il novello modello Sempre più impaurito Dal suo fato Alberto Venne sottoposto Ad interventi Di make up Talvolta superfui Finalizzati Solo alla vendetta Quando il servizio Prese il via Lewis si complementò Con sé stesso Per l'ottima scelta Alberto Al di là del suo Caratteraccio Era proprio bello Ciò Lo fece citare Ed il boscaiolo Non mancò Di notarlo I due Poi divennero Molto intimi Stupiti A vicenda Della sostanza Che si nascondeva Sotto l'apparenza Dell'altro Ben presto Si innamorarono Peccato solo Che uno stilista Freddo Ed acido Come Lewis Non poteva Permetterselo E così A fine servizio Il suo cinismo Lo spinse a ripudiare Alberto Scelta del quale Si pentì subito Ed amaramente Dopo pochi giorni Tornò infatti In montagna Portando Tutto se stesso E nulla più Alberto Vedendolo Senza trucco Sciatto Ed ascoltando Le sue parole Piene di lacrime Non poter fare a meno Di farlo suo In quel preciso istante Decidendo poi Di perdonarlo La storia si chiude Con Alberto Che propone Una nuova sfida Di una settimana Al suo novello fidanzato Il quale Al posto Che perde Il controllo Chiede Le scarpe Da ginnastica Ed uno struccante Io l'adoro Sto personaggio Anche se lui non dovrebbe Saperlo Ma io l'adoro E questa Era la seconda Storia di oggi Passiamo Ora All'ultima Nel quale Troviamo comunque E sempre Lewis Perché è una sorta Di sequel Quello che andrò a leggervi Di questa prima storia Ok Andiamo a scoprire Come continua Storia 6 Avrò cura di te Ovviamente ragazzi Ricordatevi che questi sono riassunti Per la storia nel complesso Vedremo Quale delle tante Prenderà una forma Mondo dei destini Un mondo del tutto simile alla terra Con la differenza Che le creature che lo abitano Sono più variopinte Oneste Sveglie E talvolta in grado di usare Qualche potere magico In questo mondo Non esiste pregiudizio Capita sovente Che le persone Dello stesso sesso Si dichiarino I propri sentimenti Anche pubblicamente Così come accade spesso Che uomini o donne Non propriamente tali Vadano in giro Senza paura e vergogna E soprattutto Senza essere giudicati Al primo sguardo Lui Lei Il nostro caro Lewis È un abitante Di questo mondo Incamminatosi Alla rincorsa Del suo modello Lewis Stilista di fama mondiale Si ritrova Per l'ennesima volta A compiere Una vera e propria Escursione In mezzo alle montagne Già indignato di suo Nel rifugio In cui avrebbe passato Le notti a venire Conosce una ragazzina Arrabbiata Quasi quanto lui Convivendoci Scopre che il motivo Di tanta rabbia È sua madre La donna non capisce Ne stima I sogni della figlia Coprendo per caso Che il sogno Della ragazzina Era quello Di diventare stilista Lewis si vede Costata a parlarle Tentando Di farla ragionare Cosa assai complicata Per un tipo Già poco centrato Come lui E i due Finiscono infatti Per bisticciare Quella notte però Lo stilista Si imbatte Nell'ennesima discussione Della mamma Con la figlia Osservò la madre Abbandonare la stanza Mentre lui Si affacciò Mettendosi a sbiare La ragazza Che invece Era rimasta lì La vide Trattenere le lacrime A stento E nonostante il dolore La osservò Prendere il suo Quaderno degli schizzi E continuare a disegnare Mentre sottovoce Sussurrava frasi A lui Molto familiari Ve la farò vedere io Ci riuscirò Ve la farò vedere io Cosa volete capirne voi Ne fu profondamente commosso Rivide in quella ragazzina Il dolore e la fatica Che lui stesso aveva dovuto sopportare Prima di arrivare a essere La regina indiscussa Del suo regno Non potè fare a meno Di entrare in quella stanza Tra i due Si creò un feeling speciale Che fece promettere a Lewis Che l'indomani Prima della sua partenza Avrebbe parlato Con la madre di lei Mentre faceva colazione La ragazza Hall Si chiede se i due Avessero già parlato Quando sentì delle urla La regina dello style Stava dando il meglio di sé Anzi Di più Hall infatti Le sentì tirare Un poderoso insulto A sua madre Infuriata Lewis scesa al piano di sotto Sbraitando ad Hall Di prepararsi a partire con lei Che quella zoccola di sua madre Era solo una causa persa E che ci avrebbe pensato lui Ad aiutarla a realizzare il suo sogno Hall Da prima Paralizzata In un attimo Prese baracche e burattini Pronta ad inseguirla Sotto i commenti Emoji e disperati di sua madre Le due Poi si scambiavano le ultime parole All'entrata della baita Dove Hall capì Una volta per tutto Che il suo destino Era altrove La storia Si conclude con Lewis Che con un flashback Ricorda tutta la fatica fatta Dalla creatura Per eccellere nel mestiere Arrivando poi A quella che ora Era adesso Una grande potente stilista Che non aveva niente Da invidiare a nessuno Neanche alla regina Alla mamma Molto fiera di lei Che idiota Che detto Scusate E questa Era l'ultima storia Ok ragazzi E queste Erano le tre storie Che mancavano all'appello Spero Che vi siano piaciute E che io Sia riuscita a leggere In maniera Quanto meno Comprensibile Non immaginate Che fatica Ogni volta Costa L Costa R Che non vengono fuori Che se tu sei lì Sempre Guarda Sempre Nel video precedente Vi avevo detto Che i miei personaggi In più delle volte Sono degli attori Che prendono parte Ad un film In questo caso Invece La storia Di Lewis e Alberto Tu non capisci È la vera storia Dei personaggi Non sono attori Sono loro stessi Considerando La quantità Delle pagine Magari saranno Loro stessi In versione Small Però Sono comunque Sempre loro Mentre Avrò cura di te E Il destino Di un amore Vero Sono comunque Storie ambientate E conseguentemente I miei personaggi Svolgono Il ruolo Di attori Oltre che Di protagonisti Cattivi Innamorati E non Tutte quelle cose Lì All In modo particolare Spera un giorno Di riuscire a presentarvela Con la sua storia originale E la storia Dal quale Lei proviene Si intitola I 5 elementi La sto Scrivendo Versione libro Spero di riuscire Un giorno Ad ottenere Una versione Soddisfacente E riuscire Quindi a farvela Leggere Versione libro Spero Sarà lungo e faticoso Ma ce la farò Ok Detto questo Io vi saluto E vi ringrazio Per essere stati con noi Ancora una volta Ci vediamo Nella prossima puntata Arrivederci gente